Ciao a tutti ragazzi, oggi c'è Vagno7 in un breve video che vi mostrerò il ciocat più grande al mondo Vabbè, vi mostrerò il ciocat più grande al mondo, prego Yeah, bitch Non mi prenderai mai l'issino, oddio Non è tutto il trinker, bro Ma? Se mai l'issino è stato uguale? Aspetta, c'è l'issino indietro Che ulti di merda che ho fatto Dici che dovrei partire con lo statico o con qualcos'altro Uuuuh, che double! E rientri in partita! Che double!